Le piscine private a uso collettivo si potranno svuotare ogni tre anni, approvata all'unanimità la nuova legge sui requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio. La misura vuole salvaguardare il più possibile la risorsa idrica. Aula, crediti fiscali, nuove disposizioni per favorirne la circolazione, sia maggioranza della proposta di legge di iniziativa consigliare. Sanità, soccorso alpino e speleologico ok del Consiglio regionale, la legge di iniziativa consigliare è stata approvata all'unanimità. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la nuova legge regionale recante disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio. L'atto normativo nasce per consentire la possibilità di procedere allo svuotamento delle piscine private a uso collettivo almeno una volta ogni tre anni. Lo svuotamento, che finora era obbligatorio almeno una volta all'anno, si considera non necessario qualora siano rispettati i parametri e garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti. Con le attuali tecnologie è possibile attuare procedure di autocontrollo e mettere in atto accorgimenti tecnici che consentono la pulizia delle pareti della vasca anche senza lo svuotamento totale. L'esigenza è imposta dalla necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, considerati i lunghi e frequenti periodi di siccità degli ultimi anni. Sentiamo il commento del Vice Presidente del Consiglio regionale e di alcuni consiglieri. Questa è una legge molto importante che va incontro alle esigenze di tutti coloro che hanno una piscina, soprattutto ad uso ovviamente pubblico e collettivo, così come è definita e come tale non soltanto alberghi, agriturismi, attività in campagna, condomini, ma non solo, strutture che poi danno opportunità di utilizzare piscine ad uso pubblico. La possibilità di non dover svuotare ogni anno l'acqua è un elemento che da una parte comporta un grandissimo risparmio economico, dall'altra una grandissima risposta in termini di risparmio idrico. La risorsa acqua sappiamo con bene imprescindibile, fondamentale, bisogna tutelarla come tale, bene che si possa verificare su base annua e non solo, ovviamente il rispetto di alcuni parametri, questo può impedire di dover svuotare tutti gli anni le piscine che dovrà essere fatto, potrà essere fatto ogni tre anni, una cosa è farlo tutti gli anni, una cosa è farlo ogni tre anni e questa norma io mi auguro poi possa diventare ovviamente strutturale e consentire a tutte le nostre strutture ricettive e non solo di avere anche un alleggerimento dei costi e soprattutto un risparmio della risorsa idrica. Per quanto riguarda la proposta di legge sulle piscine, credo che sia una questione di buon senso, cioè con un'autocertificazione che in qualche modo rispetta però determinati parametri, si può evitare di riempire le piscine e svuotare e riempire le piscine ogni anno, ma farlo ogni tre anni. Questo comporta un consumo di acqua molto inferiore a quello che invece comporterebbe ogni anno e tutto sommato si rispettano quei parametri di igienicità e di salubrità che sono necessari per poter portare avanti un discorso di sicurezza igienica. Quindi benvenga una proposta di legge di questo genere. Sì, la norma ha un ambito di applicazione specifico, è quello delle piscine, degli agriturismi, campeggi e strutture simili che sono ad uso pubblico ma riservato ai soggetti che sono alloggiati. Per questa categoria di piscine era possibile, secondo la normativa nazionale, prevedere da parte della regione una normativa attuativa particolare e noi lo abbiamo fatto prevedendo appunto che possono essere svuotate non ogni anno ma ogni tre anni quando ricorrono alcune condizioni e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina che verranno dettagliate in un regolamento che la Giunta deve approvare, dice la legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione e che nella sostanza saranno meccanismi di pulizia al fondo della piscina, meccanismi di chiusura invernale superficiale della piscina, forme di pulizia dei bordi che spesso i gestori di queste strutture già fanno ma che se fatti in maniera sistematizzata con il controllo della qualità dell'acqua possano permettere in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per la salute dei bagnanti di avere comunque un risparmio idrico importante perché svuotare una piscina vuol dire tantissimi litri e litri di acqua che vengono sprecati e così vengono invece riempiegati e ha anche un minor costo per gli esercenti delle strutture stesse. Allora in realtà non riguarda soltanto l'uso pubblico ma poi come vi dirò anche quello privato, è importante perché siamo in un momento in cui le stati procurano siccità così importanti da impedire un dispendio importante di acqua. Quindi questa nuova norma, questo cambiamento di questa legge permette a tutta una serie di attività importanti come i campeggi, come gli agriturismi, di non cambiare l'acqua annualmente ma triennalmente mantenendo però uno standard altissimo di controllo delle acque per garantire voglio dire che le acque non possono diffondere in alcun modo patologie o malattie. Quindi da una parte si permette di non cambiare l'acqua annualmente ma di farlo obbligatorialmente triennalmente, tra l'altra parte però si innalza lo standard del controllo delle acque e si va incontro a due necessità che sono fondamentali. Ma in realtà questo non riguarda soltanto le attività pubbliche, riguarda anche i privati perché in Toscana sono tantissimi soprattutto nelle campagne gli immobili così ampi da essere divisi in più appartamenti che hanno piscina comune. Questo vuol dire che se solo un appartamento viene messo a B&B tutti gli abitanti del complesso erano costretti a sostenere la spesa del cambiamento dell'acqua, che è una spesa importante perché una piscina che tale si voglia definire necessita di almeno 7, 8, 9 autobotti e ha un costo non indifferente. Quindi con questa legge siamo andati incontro alle problematiche dell'acqua e della siccità, siamo andati incontro alla sicurezza sanitaria accrescendo nei controlli e allo stesso tempo abbiamo messo in condizione anche tanti cittadini che non facevano mercato della piscina natatoria ma che era uso privato, condivisa magari con un solo appartamento che invece era messo a B&B, di avere un notevole risparmio e quindi insomma poter dedicare quelle risorse alla propria famiglia. Favorire la circolazione dei crediti fiscali. La proposta di legge di iniziativa consigliare è frutto di un percorso che ha portato all'elaborazione di un testo sostitutivo unificato rispetto a due proposte di legge distinte ha ricevuto il voto favorevole a maggioranza dell'aula. Nell'atto si stabilisce che la regione non ha nei confronti degli enti e delle società controllate che vorranno procedere all'acquisto alcun obbligo normativo di finanziamento. Eventuali perdite che dovessero realizzarsi nonostante l'obbligo di cessione prosoluto potranno essere assorbite grazie all'apposito fondo rischi che enti e società dovranno costituire. Sentiamo il commento di alcuni consiglieri. La Lega non ha partecipato alla votazione di un provvedimento che riteniamo un pannicello caldo e alquanto confuso. Noi abbiamo fatto delle domande molto puntuali per quanto riguarda questa proposta di legge. Abbiamo chiesto quali saranno le società partecipate della regione toscana che potranno acquistare i crediti. Concretamente non c'è stata data risposta, se non è veramente molto confusa. Inoltre abbiamo chiesto se il fondo a garanzia del 20% sia sufficiente per garantire la regione toscana. Inoltre parliamo veramente di poco, di 5 milioni di euro, quindi veramente un pannicello caldo. E inoltre tengo a leggere proprio la scheda finanziaria la quale dice che la possibilità, la proposta di legge si sostanzia nella possibilità per gli enti pubblici, economici e regionali per le società partecipate della regione, che torno a ripetere, non c'è stato risposto quali che siano, non inserite nelle amministrazioni pubbliche, nell'elenco aggiornato ogni anno dall'Istat, di acquistare crediti fiscali dalle banche e quindi non dalle aziende, non dai cittadini, dalle banche. Quindi 5 milioni per le banche. In questo si concreta questo provvedimento che sicuramente può andare incontro a una esigenza che esiste, che è quella dell'acquisto dei crediti e diritti, ma che non dà soddisfazione e che rimane davvero ben poca cosa. Italia Viva non ha partecipato a questa votazione. Teniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbano andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi. Noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria, e non è corretto far rischiare sulle finanze della regione la riscossione di crediti in evasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportuni da parte dei governi, in particolar modo di quella dei 5 stelle, che hanno voluto introdurre delle normative assurde nel nostro Paese, se pensiamo al 110 e ad alcuni bonus che sono stati introdotti nel sistema economico della nostra regione. È molto rischioso per le finanze della regione toscana assumersi questa responsabilità e come tale non abbiamo partecipato a questa votazione e quando abbiamo visto che si tratta di una funzione, di una visione totalmente assistenzialista dove ha visto varie forze politiche trovare invece una sintesi trasversale della nostra concezione riformista e liberale ci ha portato a essere liberi di non partecipare a questa votazione. Abbiamo affrontato in Consiglio regionale i crediti del super bonus da poter rivendere agli enti partecipati. Io sono stato l'unico che ho votato astenzione perché pur essendo stato fatto un'azione di sollecito alla questione, è stata abbastanza limata ogni parola, però a me non mi convince. Non mi convince perché questo super bonus è stato veramente un pozzo nel quale è sprofondata l'Italia e conseguentemente credo che sia una cosa che pagheremo anche con le generazioni future. Per cui purtroppo ci sono stati tanti magheggi, tante cose che non sono andate al buon fine, tanta gente se ne è approfittata e quindi io credo che la mia astenzione voglia rappresentare un qualche cosa che non è stato sviscerato fino in fondo. Io penso che oggi sia stato dato un segnale estremamente importante da parte di tutta l'Aula. È stato fatto un lavoro condiviso su una proposta di legge che finalmente consente anche alla regione toscana attraverso le sue società partecipate, non tutte, di poter interloquire con il sistema bancario toscano e quindi farsi parte attiva nell'acquisto dei crediti derivanti dal super bonus. È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione, con estremo equilibrio, tutto questo perché vi era la necessità condivisa, direi a questo punto lo possiamo certificare, di dare una risposta al settore, quello dell'edilizia, che davvero si è trovato in estrema difficoltà. Di fronte a un provvedimento che è quello comunque di intervenire su una misura che ha avuto effetti positivi da una parte sulla crescita del Paese, ma dall'altra ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici estremamente importante. È chiaro che l'intervento a tutto sondo del Governo in qualche maniera ha cercato di puntare al contenimento della spesa pubblica, però io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale desse una sua risposta. Ci sono dei punti importanti nella legge perché oltre ad aprire questa possibilità, interloquendo con il sistema bancario, lo si fa con la garanzia da parte delle banche della solubilità del creditore, lo si fa garantendo la sostenibilità anche dal punto di vista dei conti della Regione Toscana, prevedendo un apposito fondo di garanzia nel caso in cui si rivelassero crediti cattivi, ma in realtà questa è una possibilità che viene sì contemplata, ma che è scongiurata dal fatto che si tratta di crediti certificate e attestati. Quindi sono crediti buoni e in questo modo cercheremo anche sotto questo punto di vista di creare l'effetto virtuoso, di liberare anche quelle risorse che acquisendo in pancia i crediti possano poi rimettere liquidità a sostegno del sistema economico. Quindi io credo che oggi davvero anche come centrodestra abbiamo dato un segnale importante per cui sui temi seri, concreti, siamo davvero capaci di esprimere anche delle scelte importanti e di proporci davvero in Toscana come forza di governo. Noi come Partito Democratico abbiamo voluto richiamare l'attenzione dell'Aula al fatto che non possiamo accontentarci delle scelte attualmente fatte dal governo che noi ovviamente critichiamo e troviamo quasi offensive rispetto alle necessità reali della comunità toscana. Non c'è un euro per la Fano Grosseto, non c'è un euro per la Tirrenica, ovviamente bene laddove sono arrivati i finanziamenti, ma sono davvero briciole rispetto anche allo scenario nazionale. Con quest'atto abbiamo voluto richiamare l'attenzione del governo nazionale e chiediamo impegni precisi affinché questa situazione venga davvero cambiata, perché così è assolutamente inaccettabile rispetto anche alle molte promesse che anche recentemente erano state fatte, faccio l'esempio della Tirrenica, e che non trovano assolutamente corrispondenza in questi atti del governo nazionale. La Regione Toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti, per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riamodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben 6 punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la Regione potrà dare dal punto di vista economico, ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate per il furore ideologico del governo Meloni a trovarsi con degli investimenti fatti e con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore. E lo ricordiamo ancora, il super bonus edilizio è stata una misura che l'Unione Europea intende ancora esportare e che, come loro stessi hanno detto, l'Unione Europea se fosse continuata avrebbe potuto generare una ricaduta economica molto positiva nel corso degli anni e soprattutto duratura. Purtroppo questo governo non era dello stesso avviso e ha preferito rovinare decine e centinaia di famiglie e aziende. Ringrazio i colleghi per aver approvato e tutta l'Aula per aver approvato oggi la legge sui crediti incagliati. È una risposta, seppur ci rendiamo conto parziale, consentitemi a una non risposta del governo. Ci sono tante aziende in difficoltà, tante imprese. Quella del super bonus è stata davvero un pasticcio tutto italiano. Io mi auguro che in futuro, perché le politiche degli incentivi non potranno assolutamente terminare col super bonus, c'è bisogno di efficientare il nostro patrimonio immobiliare, c'è bisogno di contrastare il cambiamento climatico, ma non possono essere i cittadini a farlo. Quindi abbiamo bisogno degli incentivi, ma incentivi inquadrati in un progetto industriale con una visione chiara di sviluppo e soprattutto non di continui cambi di normative su cui poi i cittadini si trovano a pagare e si trovano in difficoltà. Questo è quello che abbiamo provato a fare oggi, sono molto orgogliosa che lo abbiamo fatto tutti insieme, anche al di là delle differenze politiche, perché quando i cittadini hanno bisogno la politica tutta ci deve essere e noi oggi ci siamo stati. Voto unanime dell'Aula di Palazzo del Pegaso la nuova legge di iniziativa consigliare in materia di soccorso alpino e spieleologico, illustrata dal Presidente della Commissione Sanità. Ad entrare nel merito del provvedimento anche il consigliere del Partito Democratico, primo firmatario della proposta e l'esponente del gruppo di Fratelli d'Italia che ha presentato un emendamento accolto che prevede la possibilità di mettere a disposizione del soccorso alpino anche alcuni fabbricati siti in luoghi strategici. Sentiamo i loro commenti. All'unanimità è stata approvata la legge che disciplina il soccorso alpino e spieleologico della regione toscana e riconosce il ruolo fondamentale e istituzionalizza il ruolo del soccorso alpino che è importantissimo in questo particolare momento dove la montagna diventa sempre più una montagna frequentata da turisti anche dopo la drammatica vicenda della pandemia per una ricerca di un rapporto diverso con la natura e con l'ambiente e impegna ancora di più gli uomini e le donne del soccorso alpino. Con questa legge noi riconosciamo questo ruolo, ne definiamo i compiti e incentiviamo sia gli aspetti relativi al miglioramento del servizio sia quelli che riguardano l'informazione ai cittadini e il tema importantissimo della prevenzione. Mettiamo a disposizione un budget economico e valorizziamo il luogo del soccorso alpino in modo che sia riconoscibile da parte di tutti i toscani e di tutti coloro che frequentano le nostre montagne. Sono sempre di più i turisti che decidono di andare in montagna in estate a camminare, in bicicletta, a passeggiare anche con le famiglie ma anche in inverno sono sempre di più e io dico per fortuna i turisti che decidono di andare in montagna anche in maniera differente da quella classica sull'impianto di risalita. Tantissimi quelli che praticano lo scialpinismo, decine di migliaia in Toscana le persone che ogni fine settimana vanno a giro con le ciaspole. Quindi è giusto che la regione toscana intervenga per legge come oggi abbiamo fatto per regolare appunto il soccorso alpino. Intanto ringraziando le tante donne, tanti uomini con una capacità incredibile, con una preparazione oltre la media che sono a disposizione appunto di chi va a giro per la montagna e poi mettendo per iscritto alcune norme. Tra queste io ho chiesto e è stata accettata, tant'è che è diventata legge che sono individuate dei fabbricati da mettere a disposizione il soccorso alpino che possono essere utilizzati per magazzino, per tenere materiale di intervento, penso a una barella e che possono essere utilizzati anche come luogo di sempre aperto, come luogo di bivacco, semplicemente perché anche se qualcuno non è ferito ma cambia repentinamente il tempo, in montagna può succedere, viene la nebbia, viene il bue, viene l'acquazzone o del vento forte, si possa sapere che in determinati luoghi per 365 giorni l'anno, per 24 ore al giorno comunque c'è un rifugio appunto con il regime di sempre aperto, cioè un bivacco. Quindi una legge importante che va a regolare appunto il rapporto del soccorso alpino e che è un ulteriore passo in avanti per la sicurezza in montagna perché tutti coloro che anche in Toscana decidono di andare in montagna, di andare d'estate o d'inverno per i nostri boschi, per le nostre scime, sappiano che comunque c'è una sicurezza maggiore legata agli uomini e volontari del soccorso alpino.